Benvenuti all'introduzione su Concepción, del Paraguay ovviamente, non quella distrutta del Cile. Concepción del Paraguay è qui, è questo puntino qui, ed è la capitale del dipartimento di Concepción, anche se il puntino più piccolo è Belén è stata fondata alcuni anni prima, sembra 4 ma Belén hanno corretto il coso del municipio. Cosa c'è da vedere in Concepción? La domanda potrebbe essere perché non venire a vivere per sempre a Concepción? Belle donne, vita molto economica, non c'è un servizio di collettivo, quindi vanno tutti in moto, però c'è il rio Paraguay, il ponte su rio Paraguay, Piazza della Libertà, c'è la municipalità che è meravigliosa, il museo, il teatro municipale ed il museo del teatro municipale, c'è il museo di... non so come si chiama, sono tre musei e uno è chiuso, quello di arte è chiuso, c'è il club del football di Tati e c'è il cimitero, il cimitero è carino e tiene una parte piccolissima degli italiani e che altro c'è da vedere? il monumento, la statua gigantesca a Mori Oxidatore che sembra il colosso di Rodi e... no, Concepción è bella tutta, Concepción è bella tutta, io non so come dire, Concepción è bella, forse è una delle... non lo so, comunque è tra le migliori città e i migliori posti visitati fino adesso.